Flussi migratori, Rimini negli ultimi 5 anni ha tratto più cittadini di quanti ne abbia persi e in gran parte si tratta di italiani. Tra il 2012 e il 2016 sono arrivate in città 20.757 persone, il 47,8% maschi, il 52,2% femmine, in larga parte provengono dall'Emilia Romagna. Tra gli immigrati crescono gli stranieri che dopo un notevole calo nel 2014 e 2015 tornano a salire nel 2016. Passiamo dai 1.658 immigrati stranieri del 2012 ai 2.093 del 2016 per un totale di 8.493 arrivi stranieri nel quinquennio. I paesi di provenienza più rilevanti sono Romania, Ucraina, Albania, Cina e Russia. Sempre sopra le 200 unità immigrate nel quinquennio troviamo anche Bangladesh, Senegal e Moldavia. C'è poi il capitolo delle partenze. Negli ultimi 5 anni hanno lasciato Rimini 16.681 persone, analizzando lo stato civile si evidenzia che circa la metà di coloro che emigrano sono celibi o nubili. Oltre il 90% degli immigrati sceglie come destinazione l'Italia, di questi il 61,2% rimane in Emilia Romagna. Nel 2016 a lasciare Rimini erano state 3.373 persone, di queste 2.992 diretti in altre città italiane, 160 nell'Unione Europea e 221 in paesi fuori dall'Unione Europea. Gli stranieri immigrati sono invece cresciuti dagli 805 del 2012 ai 1.190 del 2016. La Rimini che emerge da questi dati, commenta Anna Montini, assessore alla statistica del Comune di Rimini, è una città dinamica, attrattiva e inclusiva. Rispetto al trend di altre realtà nazionali, Rimini aumenta il flusso in entrata di nuovi residenti, dimostrando di fatto le sue qualità di polo attrattivo non solo per il potenziale occupazionale, ma anche per la qualità del suo sistema di welfare e dei suoi servizi educativi, sociali e culturali. Un aumento in maggioranza di segno italiano, il che conferma l'attrattività anche rispetto alle province e regioni limitrofe, da cui provengono la maggior parte dei nuovi residenti.